Questo podcast è presentato da Prolon Quante volte hai sentito parlare di qualità della vita, di essere in forma, di serenità? Sicuramente tante, ma poche volte ci siamo soffermati a capire cosa significhino davvero per noi queste espressioni. Sono Francesca Brienza e questo è Essenzialmente, un podcast che viaggia alla scoperta del benessere consapevole. In questo episodio parleremo di alimentazione e lo faremo con la nostra ospite di oggi, la nutrizionista Laura Crugnola. Con lei tratteremo alcuni concetti chiave partendo dalla consapevolezza e dal farsi più domande possibili. Ciao Laura, ben trovata! Ciao Francesca, è un piacere essere qui con te. Cosa intendiamo veramente quando parliamo di dieta? Allora, dieta di base significa stile di vita. Purtroppo ancora oggi c'è questa tendenza a concepire il termine dieta come qualcosa di negativo o come qualcosa che per forza deve essere preso in considerazione quando ad esempio si vuole dimagrire o si vuole raggiungere un certo tipo di obiettivo. E invece la dieta è ciò che noi facciamo tutti i giorni tramite appunto il nostro stile di vita che è caratterizzato sicuramente dalla nostra alimentazione o meglio dalla nostra nutrizione e adesso spiegherò un po' la differenza, ma anche da tutto ciò che noi facciamo per far sì che quindi il nostro corpo chiaramente sia in salute, le nostre abitudini appunto quotidiane. Questo mi fa pensare, la prima cosa che ci hai detto sul discorso di associare la dieta a qualcosa di negativo o comunque a un impegno verso il dimagrimento, effettivamente è così, insomma lo riscontriamo ancora oggi. Non siamo ancora entrati nel mood che ci insegna a vedere la dieta come un benessere quotidiano, su questo veramente c'è tanto lavoro da fare. Secondo te dov'è il limite di questo concetto? Diciamo che purtroppo ad oggi c'è ancora tanta disinformazione e ahimè ogni giorno esce una nuova e quindi giustamente direi le persone, così anche come tutti i pazienti poi che seguo, arrivano al punto di non capire veramente dove sta la verità, quali sono le indicazioni che devono seguire e quindi si crea appunto confusione. In realtà appunto c'è proprio anche questa differenza, come dicevo prima, tra alimentazione e nutrizione, anche qui c'è tanto caos perché alla fine alimentazione tutti ci alimentiamo, quindi alimentarsi significa introdurre cibo nel nostro corpo per le nostre funzioni vitali, ok? Ma nutrire il corpo è un concetto ben diverso ed è ciò che ognuno di noi dovrebbe imparare a fare perché nutrire il nostro corpo significa introdurre alimenti e quindi anche componenti di qualità affinché chiaramente il nostro organismo riceva tutti i nutrienti necessari per funzionare al meglio, per essere in salute. Perché io ad esempio posso anche scegliere di mangiare caramelle gommose tutto il giorno, ma questo non significa che io stia dando al mio corpo nutrienti giusti per stare bene. E allora qual è l'errore più grande che facciamo proprio da questo punto di vista? Cioè ci nutriamo troppo poco di cosa e ci alimentiamo troppo di cosa? Diciamo che ci nutriamo, allora in realtà l'errore più grande ad oggi è non informarsi e quindi scegliere di ad esempio andare al supermercato e comprare il nuovo prodotto o ad esempio selezionare prodotti, alimenti per comodità, ma senza in realtà conoscere veramente gli alimenti che stiamo andando ad acquistare. Perché la maggior parte anche delle persone non sa leggere ad esempio le etichette alimentari, quindi non sa cosa effettivamente sta portando in tavola. Sono d'accordo Laura, io penso di essere una di quelle, cioè mi impegno a leggere sempre quello che sto comprando, però mi faccio aiutare molto da delle applicazioni che sono state create ad hoc per questo, però effettivamente quando non siamo nell'argomento abbastanza bravi è difficile interpretare bene, quindi questa è una cosa effettivamente su cui si dovrebbe lavorare di più. Cioè noi siamo al supermercato, dobbiamo comprare qualcosa, quanto veramente questo prodotto tanto sponsorizzato, tanto raccontato, tanto proposto, fa bene per noi rispetto ad un altro, ma anche dal più semplice che può essere uno yogurt. Quindi effettivamente pensiamo sempre o la maggior parte delle volte di comprare qualcosa che è buona per la nostra salute, poi invece non abbiamo molto chiaro che potrebbe essere non tanto vero quello che noi crediamo. Quindi questo è un altro limite effettivamente sulla corretta alimentazione che ci porta ad alimentare e a nutrire bene il nostro corpo. Assolutamente, poi c'è anche un altro aspetto che io ho riscontrato indubbiamente negli ultimi anni, sicuramente il periodo diciamo del covid ha influito tanto, che è il fatto che le persone non riescono a distinguere quella che è la fame fisica dalla fame emotiva e quindi questa enorme in realtà differenza porta le persone anche a fare delle scelte. Ce la vuoi un po' spiegare questa differenza? Certo. Allora, la fame fisica è una fame che compare gradualmente, è la fame che nasce da un bisogno fisiologico che non richiede anche di essere soddisfatta nell'immediato, e non richiede neanche, e questa è una differenza importantissima, necessariamente la consumazione ad esempio di cibi ad alto contenuto calorico, di zuccheri, di grassi, ed è un tipo di fame che risponde al senso di sazietà e quindi noi, terminato il nostro pasto, siamo in grado di finire, di non andare a prendere altri cibi nella dispensa. La fame emotiva invece è una fame che compare molto spesso improvvisamente e necessita di un soddisfacimento proprio immediato, è un qualcosa che risponde a delle emozioni, è una fame che risponde alle emozioni, emozioni negative, emozioni in realtà anche positive, ed è un tipo di fame che ci porta a consumare i cosiddetti proprio comfort food, quindi più zuccheri, perché noi andiamo a ricercare in quel pasto che in realtà non ci serve, perché è il tipico pasto che noi magari andiamo a fare post cena, prima di andare a letto, esatto, ma perché lo andiamo a ricercare? Lo andiamo a ricercare per conforto, perché abbiamo bisogno di colmare molto spesso un vuoto che abbiamo in noi, che è in noi e che arriva da altro. Secondo la tua esperienza Laura, perché quando abbiamo bisogno di colmare questo tipo di vuoti si va verso, appunto ecco quello che dicevi, un'alimentazione di qualcosa, per riuscire a riempirli? Zuccheri per lo più. Ma perché? Non esiste? Che cosa possiamo fare? Al posto del cibo? Cosa ci possiamo inventare per non cadere in questo tranello? Allora, diciamo che in realtà non è così semplice, come dico sempre, motivo per il quale io poi sono anche specializzata in medicina funzionale, bisogna andare a ricercare il perché. Siamo abituati ad un tipo di, diciamo, a avere magari una problematica e una volta che abbiamo la problematica, non so, soffriamo di ipertensione, ok? Prendiamo la pastiglia per la pressione alta. In realtà noi dobbiamo andare alla base, cioè perché abbiamo la pressione alta, ok? Quindi, allo stesso modo, noi possiamo sicuramente utilizzare delle strategie, che sono poi le stesse strategie che ci portano a diventare dei consumatori consapevoli, ok? Ed è un po' ciò di cui si parla quando si trattano argomenti come il mindful eating. Ci sono delle strategie che possono essere applicate, ma allo stesso tempo bisogna andare chiaramente alla base e capire da dove arrivano queste emozioni negative e perché noi abbiamo la tendenza a riversare poi sul cibo tutto quanto, questa negatività. Questo dal punto di vista del negativo. Sul positivo, perché abbiamo parlato anche di emozioni positive, no? Questo piacere di, ecco, anche in questo caso, come si fa? È vero che, da quello che mi dici, capisco, si tratta, insomma, la base è di lavorare su un equilibrio mentale, no? Esatto. Per poi avere poi la consapevolezza ogni volta che l'azione che stiamo facendo verso questo momento, insomma, verso quello che vogliamo mangiare in più, può avere delle conseguenze che non sempre è così necessario come crediamo. Però, ecco, come dicevi anche tu prima, è difficile fermarsi, no? A volte. Anche quell'abitudine di prendere il dolce la sera prima di andare a letto, davanti alla TV, mangiare un pezzo di cioccolata perché ci fa stare bene. A volte leggiamo degli articoli che dice la cioccolata fondente fa bene all'umore e quindi magari ci convinciamo che alla fine quel pezzetto di cioccolata fondente ci fa più bene che male. Insomma, siamo anche un po' confusi a quelle che sono le comunicazioni che troviamo, no? No, è corretto. Parto con una premessa. I carboidrati non vanno temuti. Oh, questo mi piace. Proprio, assolutamente. Anche perché, appunto, regalano felicità. È vero, è come mai? Perché, appunto, i carboidrati, l'assunzione dei carboidrati è strettamente correlata a quella che è la produzione, poi, di serotonina nel nostro corpo e la serotonina è il più importante neurotrasmettitore in grado, appunto, di regolare il nostro umore e infatti viene proprio definito l'ormone della felicità. Ma come mai c'è questo legame tra carboidrati e serotonina? Perché la serotonina viene prodotta a partire da un aminoacido che si chiama triptofano. Questo aminoacido, per far sì che, appunto, nel nostro corpo sia, appunto, favorita la produzione di serotonina, deve entrare nel nostro cervello. E, diciamo, questa spinta, vediamola così, gliela danno proprio i carboidrati, cioè sono proprio i carboidrati a favorire l'entrata, appunto, di triptofano a livello della barriera ematoencefalica, quindi nel nostro cervello e quindi questo aminoacido è poi utilizzato per produrre questo ormone. Quando infatti noi consumiamo carboidrati, giusto per entrare un pochino più nello specifico, nel nostro corpo i livelli di zuccheri si innalzano, quindi la nostra glicemia si innalza e quindi il nostro, poi anche pancreas, produce insulina per ristabilire, quindi, un equilibrio glicemico, appunto. Questa insulina, quando poi viene anche prodotta, favorisce poi l'utilizzo e le entrate, in realtà, di tutti gli altri aminoacidi, che sono i mattoncini, per intenderci delle proteine, che noi andiamo ad assumere con l'alimentazione, favorisce, appunto, le entrate di questi ultimi nelle cellule muscolari, quindi fa sì che fondamentalmente quest'altro aminoacido, quindi questo triptofano, non abbia troppi competitor e quindi riesca poi facilmente quindi ad arrivare a livello, appunto, del cervello. Quindi questo aumento di triptofano poi nel cervello, con meno concorrenza, fa sì che venga prodotta, appunto, la serotonina. Questo aumento di serotonina può portare, certamente, ad un miglioramento dell'umore e ad una sensazione proprio di benessere, quindi è vero, e quindi rende proprio i carboidrati particolarmente efficaci nel combattere la tristezza e, appunto, anche quella fase, magari, di depressione. Quindi è proprio così. Quindi sì, sia i carboidrati, però, di qualità? Assolutamente, assolutamente sì. E quali sono? Allora, i carboidrati, appunto, come ho detto prima, ma come anche hai detto tu, non sono tutti uguali e c'è da fare una distinzione, perché ogni nutriente, ricordo, che noi andiamo ad introdurre nel nostro corpo, invia un messaggio al nostro corpo e questo messaggio deve essere positivo. Tutti i carboidrati non sono uguali perché, appunto, esistono diverse tipologie di carboidrati, inclusi i zuccheri semplici, ma anche, appunto, gli amidi, che sono carboidrati complessi e anche le fibre, perché le fibre, di fatto, sono un tipo di carboidrato. I carboidrati di base integrale e, appunto, ricchi, quindi di fibre, tendono ad essere molto più, diciamo, salutari o comunque offrono dei benefici nutrizionali, come maggiore quantità di vitamine, di minerali, che chiaramente sono ottimali per la salute del nostro corpo, di noi stessi, anche perché l'assunzione, quindi di un alimentare, nutrirci in maniera qualitativa, fa sì che la nostra glicemia migliore, quindi ci sia una migliore stabilità glicemica, un maggiore anche senso di sazietà, una migliore digestione rispetto, appunto, a quello che invece si ha in seguito all'assunzione di carboidrati, di zuccheri, ecco, e di anche carboidrati però raffinati, che determinano quella che viene proprio chiamato come instabilità glicemica, che noi dobbiamo evitare, noi per stare bene dobbiamo puntare ad avere una glicemia stabile, motivo per il quale si consiglia di fare pasti completi, non perché ci siamo inventati che i carboidrati, le proteine, i grassi, le fibre devono stare nel piatto perché è così che va fatto, ma proprio perché noi dobbiamo avere sempre tutti i nutrienti per stare bene, ma soprattutto per essere sazi e per favorire questa stabilità glicemica che tra l'altro ci apporta molta più energia. Facciamo un esempio di pasto completo? Guarda, tipico pasto, anzi, che possiamo anche trovare fuori casa, così le persone dicono eh, ma quando esco fuori casa come si fa, no? Tipico piatto completo che noi possiamo anche trovare fuori casa, super sano, la poke, penso che tutti la conoscono e soprattutto che sia una scelta che magari quando si è fuori o si è in pausa a pranzo spesso no, si fa. Poke, ad esempio si seleziona un cereale, la quinoa, io consiglio ad esempio sempre la quinoa perché? Perché troviamo anche altre basi, riso bianco, però attenzione, riso venere, però attenzione perché il riso che viene, che spesso si trova nelle pocherie, ma in realtà che poi anche è il riso sushi, è cotto con lo zucchero. Sì, purtroppo. Esatto, quindi allora ci sono delle pocherie che hanno infatti il riso bianco, quello proprio classico sushi, che è quello cotto con lo zucchero, ma hanno anche il riso basmati e spesso invece quello è cotto normalmente, quindi ad esempio si potrebbe selezionare quest'ultimo, oppure ad esempio la quinoa, che è comunque uno pseudo cereale, non è un cereale vero e proprio come riso, mais, ma è uno pseudo cereale che oltre ad essere appunto un alimento senza glutine, è anche più proteico rispetto ai cereali normali. Quindi, quinoa, una proteina, che potrebbe essere un salmone o pollo o ad esempio tofu, per dare spazio anche magari a delle proteine vegetali, delle verdure, quindi carote, zucchine o pomodorini, quello che insomma c'è, e una fonte di grazi, olio o anche ad esempio avocado. Questa è una poke pulitissima che va benissimo, è chiaramente facile anche in questi casi esagerare, perché? Perché basta che aggiungere salmone, avocado, mandorle e abbiamo già fatto un mix di comunque grassi importante. Quindi, come ho detto anche all'inizio, conoscere gli alimenti, sapere ciò che noi stiamo andando a mettere nel piatto è fondamentale. Però è anche vero che un ruolo principale lo gioca anche la comunicazione, perché parlando di poche, spesso e volentieri l'associazione avocado, salmone e non so, mandorle tostate per guarnire, diciamo l'attitudine che abbiamo tutti, non pensiamo in quel momento che se io associo queste tre cose forse c'è qualcosa di troppo. È vero, bisogna fare tanta informazione, ma allo stesso tempo oggi manca un aspetto fondamentale nelle persone, nella maggior parte delle persone, che è la curiosità, cioè la curiosità di ricercare informazioni e di informarsi. Oppure la paura di non essere in grado di capirle, perché da qui poi ci riallacciamo a quello che abbiamo detto quasi in apertura, insomma che c'è un po' questo atteggiamento restio nel cercare di comprendere veramente cosa c'è scritto sull'etichetta di quello che compriamo. Quindi forse dobbiamo partire dalla base della comprensione di quanto sia importante capire davvero cosa sia una dieta, di conseguenza la nutrizione, l'alimentazione, le differenze che abbiamo fatto, prima di andare a seguirla. Assolutamente sì, infatti io sono proprio portatrice del messaggio, l'ho detto anche prima, che serve equilibrio. Quindi andiamo in pocheria, vogliamo mangiare, vogliamo prendere la poke con il salmone, l'avocado, le mandorle, va bene, non succede niente, però chiaramente un conto è dire ok, la prendo con la consapevolezza che effettivamente ho fatto una scelta abbastanza, diciamo sarà un pasta abbastanza ricco di grassi. Un conto è non essere assolutamente consapevoli che ad esempio l'avocado apporta un certo quantitativo di grassi o che potrebbe essere benissimo una valida alternativa all'olio. Riprendendo infatti quello che hai appena detto tu Francesca, fare informazione è importantissimo, ma soprattutto ogni persona dovrebbe, secondo il mio proprio modesto parere, anche iniziare un percorso ad esempio con un professionista, con un nutrizionista, ma con già un bagaglio di informazioni sue, personali, per far sì che appunto non rimanga così diciamo senza potere, tra virgolette, anche nel percorso, perché molto spesso alle persone vengono date delle linee guida e queste seguono. Ok, poi cosa succede? Ad esempio arrivano dalla sottoscritta, quindi io ricevo questi pazienti e molto spesso mi sento proprio dire io ho già fatto altri percorsi, però io non ho capito cosa devo fare per mangiare bene e per me questo è un'assurdità, perché la persona deve sapere perché sta mangiando quel pasto ed è il motivo per il quale e che mi ha spinta a diciamo creare un mio primo ebook, quindi il mio primo ebook che guida alla nutrizione consapevole. L'obiettivo proprio di questo ebook è quello di dare le basi alle persone su il vero significato di alimentazione sana, ma soprattutto di alimentazione consapevole e quindi poi di nutrizione consapevole. È un ebook che io ho voluto creare e mettere a disposizione delle persone che mi seguono e non solo, con l'obiettivo appunto di informarle ed è proprio tuttora, ancora oggi, io comunque lo consiglio sia a chi mi segue ma non è mio paziente, sia ai miei pazienti anche all'inizio del percorso. Per arrivare preparati ecco poi all'inizio di questo percorso. Assolutamente sì, perché è fondamentale, infatti all'interno comunque delle ebook io ho trattato da diciamo tutte quelle che sono le tematiche base che le persone devono conoscere, dal come si crea un piatto equilibrato, al quali sono appunto i carboidrati, i grassi, le proteine, al quando si va al supermercato come è necessario leggere l'etichetta, cosa significa un determinato, diciamo una determinata indicazione piuttosto che un'altra, proprio perché io voglio lavorare con persone consapevoli. E qual è l'errore più comune che facciamo proprio da questo punto di vista, prima di insomma di arrivare a un percorso di dieta che in realtà non è un percorso, è un qualcosa che ci accompagna, dovrebbe essere così tutta la vita poi nella consapevolezza di quello che mangiamo, l'errore più comune secondo la tua esperienza che compiamo qual è? L'errore più comune credo sia proprio quello di ricercare sempre e in prima battuta la strada più semplice e quindi si va alla ricerca della dieta che fa dimagrire in poco tempo oppure del metodo efficace per disintossicare l'organismo oppure si va appunto al supermercato e ci si fa prendere da quelle che sono magari nuovi prodotti che in realtà sono frutto di marketing e quindi si abbozzano così strategie o si cerca di arrivare all'obiettivo ma come dire ricercando veramente la strada più semplice e ad oggi con tutte le diete che ormai ci sono e di cui si parla che ormai veramente non si capisce più nulla sono fortemente convinta che veramente il fare la dieta o comunque seguire un certo tipo di alimentazione sana è semplicissimo, è molto più semplice di quello che proprio rispetto a quello che si può pensare è che bisogna diciamo distaccarsi dal concetto che si deve fare tutto in poco tempo e si vuole raggiungere il risultato subito. Questo è un po' anche lo specchio dei nostri tempi anche andando in palestra ci prefissiamo lo stesso obiettivo, ci riduciamo al mese di maggio per avere risultati a giugno e andare al mare, questo è un po' un problema che abbiamo noi in effetti con la misura del tempo, pensiamo che il tutto è subito come un'aspirina da prendere per il mal di testa funzioni anche per altre cose, però effettivamente c'è tanto lavoro da fare da questo punto di vista, ci sono miti comuni sulle diete che possiamo sfatare? Beh, assolutamente. Oltre questo che abbiamo appena citato credendo appunto che ci sia, che occorra poco tempo per un risultato. Sì, o che ci sia la pillolina magica ecco, ma in realtà no, perché comunque sottolineo serve mangiare bene, allenarsi soprattutto, quindi questi due aspetti devono andare sempre di pari passo, perché si dice che l'alimentazione fa il 70% e l'allenamento 30%, no, per me è 50% e 50% e deve essere così. Una costante di tutti e due, quindi. Assolutamente. Quando parliamo di diete è una curiosità, perché insomma abbiamo fatto un bel percorso fino ad ora, possono variare, quindi dieta inteso non una cosa che duri un tempo preciso, ma sempre nell'accompagnare la nostra esistenza, però con l'esistenza si cresce, si va nell'età adulta e poi si invecchia. Ecco, bisogna variare la propria dieta a seconda dell'età? Assolutamente sì. Allora, parto con un concetto fondamentale, cioè che il nostro corpo è geneticamente predisposto a ricercare l'equilibrio, l'omeostasi. Quindi a qualsiasi, diciamo, perturbamento, qualsiasi modifica che noi andiamo ad applicare, qualsiasi strategia nuova, porta il nostro corpo a, come dire, non a stressarsi, però il nostro corpo dice ok, c'è qualcosa di nuovo e quindi si muove per adattarsi alla nuova situazione. E noi dobbiamo dare sempre questi stimoli affinché il nostro corpo lavori e non si stabilizzi, non si fermi, non si addormenti, ok? Proprio anche metabolicamente. Quindi è importante dare sempre stimoli diversi, anche perché le esigenze stesse del nostro corpo cambiano. Cambiano quando siamo più giovani, durante l'adolescenza, cambiano se siamo atleti, cambiano se stiamo affrontando il periodo della premenopausa, cambiano quando andiamo in menopausa. E ad ogni età, assolutamente, serve andare a personalizzare chiaramente la strategia nutrizionale affinché al corpo arrivino tutti i nutrienti di cui appunto ha bisogno per chiaramente sostenersi e supportarsi al meglio. Poi chiaramente sulla base di quelle che sono personali esigenze, ma anche appunto necessità e gusti, è necessario variare. Io stessa comunque quando seguo un paziente, il paziente non ha mai la stessa dieta, ma nel senso che io ogni sei settimane, due mesi, un mese, poi dipende veramente dal percorso, ogni percorso è diverso dall'altro. Comunque qualche modifica la si va sempre a fare, proprio perché in realtà anche la minima modifica serve psicologicamente alla persona per motivarla a dire ok, è cambiato qualcosa, va davanti. Perché sennò ci si ferma anche lì, quindi ci si... Un'ultima domanda mi è venuta in mente mentre proprio parlavi di quest'ultimo concetto. Parlando anche di diete, un altro errore tra i miti più comuni, quello che ci dicevamo prima, che facciamo è magari passare una dieta a un'amica o a qualcuno che dice vorrei provare la tua dieta. Ecco, quanto è pericoloso dare una dieta fatta, specifica per noi a qualcuno che conosciamo che ce la chiede? Allora, beh, tanto. Diciamo che, o meglio, dipende dalla persona che ha ricevuto la dieta e dalla persona che in realtà copierà la dieta dell'amica. Perché nei momenti in cui si sta parlando di persone sane che non hanno patologie, che non hanno determinate necessità, appunto, interne, ecco, per così dire. Sì, facciamo l'esempio solo di perdere peso, per dire, che è l'idea più comune, spesso, siccome ancora dobbiamo imparare tanto sul fare la dieta per mantenere l'equilibrio, facciamo finta che, insomma, parliamo di quelle in cui vogliamo perdere peso. Abbiamo un'amica che ha perso 5 chili in tre mesi, forse perché aveva morti liquidi o per altre ragioni, noi crediamo di poter arrivare allo stesso risultato, le chiediamo quella dieta. Esatto. Questo può essere assolutamente pericoloso per diversi motivi. Magari, in prima battuta, noi seguiamo la dieta e perdiamo peso e quindi diciamo, ok, perfetto, ma dipende sempre da che base partiamo. Magari abbiamo un'alimentazione assolutamente non equilibrata, ricca di zuccheri, ricca di junk food, quindi, diciamo, nei momenti in cui noi ci approcciamo a un tipo di alimentazione che comunque, vuoi o non vuoi, sarà più sana, ricca di alimenti, diciamo, di qualità, sicuramente qualche miglioramento lo avremo anche noi. Ma, ripeto, ognuno di noi è diverso. L'amica magari potrà anche, magari avrà il nostro stesso peso, ma chi ci dice, o meglio, noi che la persona che non ha fatto poi un esame impidenziometrico, quindi non sa quanto muscolo ha, quanto grasso ha, chi ci dice che i 58 chili, ad esempio, dell'amica sono uguali ai nostri 58 chili? Perché anche qui non è detto. Si apre un mondo. Esatto. Due persone possono avere lo stesso peso, ma questo peso, da quanto muscolo è fatto, da quanto grasso è fatto, e chiaramente qui si apre appunto un mondo. Infatti, con l'alimentazione dell'amica noi potremmo perdere fin troppo peso, ma addirittura anche muscolo, perché magari l'alimentazione, la dieta dell'amica è una dieta troppo restrittiva per le nostre esigenze. Non si confà a quelle che è il nostro bisogno. Esatto. E allora, ritorniamo al principio di questa chiacchierata. Informarsi prima di iniziare un percorso è fondamentale, Laura. In chiusura ti chiedo, visto che abbiamo toccato veramente tanti argomenti, e forse avremo bisogno di altri dieci giorni per poter parlare davvero bene di tutto, una parola chiave o, non so, una frase, uno slogan, quello che ti viene in mente, che sintetizzi quanto ci siamo dette fino ad ora. Guarda, ti riporto questa frase, la quale io veramente credo tanto, ma credo tanto perché la utilizzo proprio anche per me stessa, perché io ho un percorso, ho un passato che mi ha portato ad essere oggi nutrizionista e che non è stato semplice, ma sono certa appunto di questa frase, cioè che più siamo consapevoli, più siamo liberi. E questo secondo me è un messaggio bellissimo, perché la libertà e la consapevolezza ci dà libertà, e nel momento in cui noi siamo liberi e quindi siamo consapevoli, noi possiamo fare tutte le scelte che vogliamo e comunque sapremo sicuramente scegliere per il nostro bene. Più siamo consapevoli, più siamo liberi. Grazie Laura Grugnola. Grazie a te.